Filomena Lamberti, com'è stata questa mattina tu rannunciata a raccontare la sua esperienza di vita? Questa è uno dei tanti incontri che mi è piaciuto molto anche perché parlare in un tribunale dove a me non è stata fatta giustizia per me ha un valore maggiore. Mi hanno colpito molto le sue parole, sono stata colpevole di non aver denunciato? Infatti sì, sono stata colpevole di non aver denunciato perché per vari motivi, il messaggio che deve arrivare alle donne adulte è proprio quello di non temere ma di denunciare. Una domanda che vorrei fare, qual è la situazione attuale delle donne in Italia? Soffrono ancora tante donne per una situazione medesima alla sua? Io credo proprio di sì perché poi ogni tanto si sente dai telegiornali, dai media che una donna è stata violentata, una donna è stata ammazzata e comunque esiste. Ancora purtroppo si tiene nascosto ed è questo che deve sfatare questa cosa, le donne devono denunciare, anzi io dico sempre scappate prima e poi denunciate.